ciao sono il dottor max della pharma max che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci e non solo in questa nuova serie di video dedicata agli integratori alimentari ti leggerò i foglietti illustrativi degli stessi prima di iniziare ti ricordo di iscriverti al canale mettere un mi piace ai video che ti interessano e commentare con le tue esperienze personali in base ai farmaci integratori o principi attivi da te assunti in modo da avere sempre a portata di mano uno strumento utile che ti aiuterà ad ottimizzare le cure per la tua salute grazie ai suggerimenti condivisi in questo video esaminiamo l'integratore alimentare yellow drop 2m trade srl ultimo aggiornamento 25 marzo 2022 a cosa serve confezioni informazioni commerciali indicazioni modalità d'uso avvertenze ingredienti tabella nutrizionale immagine prodotto a cosa serve yellow drop è un integratore appartenente alla categoria degli integratori per il benessere delle cartilagini delle articolazioni e delle ossa è commercializzato in italia dall'azienda 2m trade srl informazioni commerciali titolare 2m trade srl concessionario 2m trade srl categoria di appartenenza integratori per il benessere delle cartilagini delle articolazioni e delle ossa forma farmaceutica gocce confezioni yellow drop 30 ml indicazioni yellow drop è una formulazione a base di acido ialuronico altamente concentrato 10 mg barra ml ad alto peso molecolare utile per migliorare il ripristino di acido ialuronico in tutti i distretti connettivali aiuta il trofismo e la funzionalità della cartilagine articolare del tessuto cutaneo modalità d'uso diluire 1 ml 20 gocce di prodotto in un bicchiere d'acqua o direttamente nel sublinguale da 1 a 3 volte al giorno è importante utilizzare ialudrop ogni giorno e preferibilmente al mattino avvertenze conservare in luogo fresco e asciutto la densità del liquido può variare con la temperatura ma non è indice di alterazione del prodotto gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata non superare la dose giornaliera consigliata tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni di età ingredienti acqua sodio cloruro sodio ialuronato acido ialuronico correttore d'acidità acido citrico conservanti potassio assorbato non contiene glutine tabella nutrizionale tenore per dose giornaliera pari a 3 ml 60 gocce acido ialuronico 30 mg fonte codifa l'informatore farmaceutico per avere accesso alla versione più aggiornata si consiglia l'accesso al sito web della codifa l'informatore farmaceutico grazie per avermi seguito fino a qui spero che la farma max ti sia stata utile iscriviti al canale e sarà informato sulla pubblicazione dei nuovi video buon proseguimento ci vediamo al prossimo integratore e alimentare esaminato